L'ultimo progetto a cui ho lavorato è il magazine di Drago Nero del 2017 che è uscito pochi mesi della Sergio Bonelli editore. Il personaggio che ho sempre amato disegnare è Batman perché è un personaggio che mi ha sempre affascinato perché è il cavaniero scuro e ha delle ambientazioni che mi fanno impazzire. La prossima storia su cui sto lavorando è sempre il magazine di Drago Nero a colori che uscirà nel 2019. Grazie a tutti.